Paolo Pettavino, Seven Stars Crossfit, Liguria Potspat, World 2, 2017 Skate, tutti, io caro, fuma, saluta? Allora, mezzo chilo, 5, 10, terzo disco è 20, di qua, 20, 10 kg si vede, 5, e mezzo, c'è da uomo, è un dormire però, anche dentro ieri, anche inットantobee, chiaramente inizia lo stavola la see Stavolaome, e questezieosti sono un po', questo parcello con le denti lì siamo stato un sacco come? Sì, perché la spalla può faticare, perché l'uscitazione se fai il secondo, il secondo. Ah, ma non devo buttare. È un giocatore, è un giocatore. Si, perché la spalla è una mano ma non mi piace. Questo è il gioco, perché la spalla è lappure. Grazie a tutti. 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 Un minuto. 6. 6. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 25 secondi. 7. 8. 9. 30 secondi. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 9. 6. 6. 6. 6. 6. Grazie.